Robopac, azienda leader nella costruzione di macchine per avvolgere bancali con film estensibili, siamo a questa rassegna B-Attraction con un nostro prodotto di punta. Il nostro prodotto che ci contraddistingue nel mondo, che vedete lavorare qua, è un robot per avvolgere bancali se movente e che praticamente lavora in completa autonomia. Grazie a tutti!